La borsa di Milano chiude positiva insieme alle piazze finanziarie europee, spinta da Wall Street dal balzo dei prezzi del greggio, salito a quasi 52 dollari al barile. A piazza affari è di nuovo boom di acquisti per il titolo di MPS, che torna sopra i 20 centesimi ad azione dopo l'arrivo del piano di Corrado Passera, alternativo a quello dell'istituto. Sono in spolvero anche Biper, Mediobanca e Poste Italiane. Segno negativo invece per Terna, znamy Dexor.